Fermata obbligatoria, siamo in questo momento qui vicino al Tribunale, oggi è una giornata particolare, una giornata dedicata alla Befana, alle famiglie, ai bambini eccetera. Stiamo aspettando in questo momento il Presidente, di poter parlare con il Presidente Giuseppe Barone dell'associazione Ricreamo Caltagirone. Un'iniziativa che prevede la realizzazione di un parco giochi qui a Caltagirone e che chiaramente sta cercando di coinvolgere più famiglie possibile nella sensibilizzazione e nella partecipazione per la realizzazione di questo parco giochi. Tra l'altro, poi ce lo spiegherà il Presidente, prevede anche un'area non solo dedicata alle famiglie ma anche agli amici a quattro zampe, ma ce lo spiegherà meglio il Presidente Giuseppe Barone dell'associazione Ricreamo Caltagirone. Salve a tutti, io sono Giuseppe Barone, molti di voi mi conoscono, rappresento questa associazione che è nata in seguito a un gruppo di genitori che hanno capito che in questa cittadina c'era l'esigenza di costruire un parco ricreativo, un parco giochi a 360 gradi dove per inclusivo si intende sia la fascia di età, quindi persone da 0 a 90 anni, che la più o meno diversità di abilità. Inoltre abbiamo pensato pure a una zona per sgambettamento cani perché ci sono molte persone che ce l'hanno chiesto per quanto riguarda gli amici a quattro zampe, quindi anche questo fa parte del nostro progetto. Un gruppo di genitori che si sono riuniti hanno creato questa associazione, copiandola poi da altre parti della Sicilia dove ci sono riusciti ottimamente, per cui noi siamo anche un po' invidiosi di questo e ci vogliamo riuscire e siamo certi che lo faremo. Questo dipenderà molto anche dal contributo e dalla sensibilità dei cittadini che ci verranno incontro, per cui il progetto sarà sicuramente attuativo ai primi di giugno per come è d'accordo con l'amministrazione comunale. Il più o meno bello o grande dipenderà, come dicevo prima, dalla contribuzione dei cittadini perché tutto il progetto nasce da un sistema di crowdfunding, quindi da una colletta che può essere fatta sia dai cittadini calatini che anche dai calatini nel mondo perché avremo un IBAN dove praticamente chiunque può contribuire. Per quanto riguarda il posto, l'amministrazione comunale abbiamo deciso assieme a loro di realizzare questo parco nell'area che va tra la via Minosse e la via Rianna, trattasi di un'area di circa 6.000 metri quadri, per cui è impostata molto grande, c'è molta possibilità di spazio per realizzare quello che si vuole in funzione del progetto. Il modo per poter contribuire, penso che ormai i cittadini abbiano un minimo di dimestichezza, abbiamo invaso la città di Salvadenae, quindi un sistema molto pratico, molto facile da utilizzare dove non è possibile capire quanto è la donazione perché non è questo che ci interessa, la quantità, ma il fatto che tutti siamo partecipi e tutti ci sentiamo padroni di questo progetto. Diciamo che noi non vogliamo fare il nostro parco, ma sarà il parco di tutti i cittadini di Caltagirone. Allora Presidente, lei l'ha già spiegato, insomma, le dimasie, quindi sono delle offerte e c'è chi, come già detto nel suo discorso, che ha partecipato anche fuori da Caltagirone. Da dove sono arrivate queste risposte? Allora, il primo donatore è una persona a cui abbiamo parlato di questo progetto, è un calatino che ha una gelateria, vive a Düsseldorf, si chiama Francesco, non voglio dire il cognome perché altrimenti sembra pubblicitaria la cosa, e ci ha offerto 100 euro, quindi un altro calatino che vive a Caltagirone, pensionato, ma che ha lavorato una vita in Germania, Mario Agostino, anche lui ha aderito con 100 euro, quindi vedete che poi alla fine c'è molta sensibilità da parte di parecchie persone. Bene, che dire, sognare si può e si può anche realizzare, grazie chiaramente alla generosità delle persone, dei cittadini, e anche di chi non sta mai a Caltagirone, ma tiene a cuore questa città. Presidente, che dire, la ringraziamo, noi stiamo aspettando la Befana che sicuramente volando porterà pure un contributo per questo parco giochi. Noi l'aspettiamo. Grazie a voi. Alla prossima.